Mi scema a te, cosa porterai a Milano? Porterò una collezione di abiti selezionata, una collezione nuova, contemporanea, che mi ha dato molte soddisfazioni, una collezione fatta di tessuti nobili, di freschi lana che ti accarezzano, di sete che ti coccolano, di pellice che ti danno importanza, di forme, di spalle imponenti che ti danno forza, una collezione di glamour e di potere. Non è una collezione fragile, non abbiamo voglia di essere fragili, abbiamo voglia oggi in questo mondo, con quello che sta succedendo, vogliamo essere individualmente forti. Ognuno deve esprimere con un look, un'identità ben definita, un'identità che dimostri una forte personalità. È quello che voglio dei miei clienti, è quello che voglio dei customer, dei miei abiti, è quello che porterò a Milano e vi aspetto, perché presentiamo veramente una linea fotonica. A bientôt!